L'urbanistica. L'origine dell'urbanistica. Dopo la rivoluzione industriale le campagne si spopolarono e si affollarono le città. Parliamo dello sviluppo urbano caotico. Divenne importante allora pianificare lo sviluppo delle città e nasce l'urbanistica che studia la pianificazione urbana. Gli strumenti dell'urbanistica sono le amministrazioni pubbliche che incaricano architetti e ingegneri di redigere il piano territoriale. La regola che stabilisce come devono essere costruite le città. Il piano territoriale stabilisce dove devono essere costruite le autostrade, gli aeroporti, le ferrovie e il ministero dei lavori pubblici controlla la progettazione. Il PRG invece è il piano regolatore generale. Regola la pianificazione di città e comuni rispettando il piano territoriale. Il consiglio comunale controlla la progettazione. Dove i PRG sono stati attuati con ritardo o male si è verificato l'abusivismo edilizio. ognuno costruisce dove vuole che poi attraverso i condoni sono stati sanati. Urbanistica greca. Il podamo di Mileto è considerato il primo urbanista. La pianta urbana ha maglia ottagonale. Prima si disegnavano le strade e poi le costruzioni. L'urbanistica romana è una pianta urbana a maglia quadrata mentre l'urbanistica rinascimentale è una pianta urbana a stella. Il piano regolatore generale è diviso in piani particolari. Il piano di azionamento che indica la destinazione delle aree, le abitazioni, le industrie, il verde, la cubatura, cioè per ogni metro quadrato di terreno quanti metri cubi si possono costruire e le altezze massime dei palazzi. Il piano dei vincoli, aree soggetto a vincoli, storico artistico e ammette solo interventi di conservazione. E il piano di viabilità, riporta la rete stradale con i futuri sviluppi e ferroviaria. E poi c'è il regolamento edilizio, sono le regole da seguire nella costruzione degli edifici. Gli impianti tecnici sono la rete elettrica apposta a 60 cm metri di profondità dove c'è l'energia elettrica che viene prodotta nella centrale e portata nelle città con gli elettrodotti e trasformata da alta tensione a media e bassa tensione. C'è poi la rete telefonica, parte dalla centrale telefonica e porta la telefonia in città. E la rete di gas naturale che viene trasportata da altri paesi produttori con delle condutture poste a un metro di profondità. C'è poi l'acquedotto posto a profondità più elevati, molto più profondità più elevate, che portano l'acqua alle abitazioni. Acqua dette bianche ad uso domestico e acque nere per gli scarichi che arrivano agli impianti di repurazione fuori dalla città. Le infrastrutture di servizio sono trasporti e viabilità, collegamenti urbani, metro, tram, autobus e collegamenti extraurbani, ferrovie, aeroporti, porti, rete stradale, più le regole per la manutenzione che definisce la viabilità. C'è poi la nettezza urbana, i servizi sociali, il commercio e la distribuzione dei mercati, la cultura, scuole università e la sanità, ospedali, sport, palestre, amministrazione, uffici postali, giustizia tribunale e comunicazione.